Buongiorno tifosi bianconeri, volete restare aggiornati su tutte le novità della Juventus? Quindi iscriviti al canale. E attiva la campanella di notifica, quindi non ti perdi niente della Juventus. Decimo in classifica nella Serie A, il Monza è stata una squadra sorprendente quest'anno per i risultati ottenuti. Nel suo roster, ci sono alcuni talenti, come Carlos Augusto. Un nome di fiducia per l'allenatore Raffaele Palladino, il terzino brasiliano, che la Juventus vuole acquistare quest'estate, ha partecipato a 31 partite nella stagione attuale, segnando 6 gol e fornendo 5 assist, ed è uno dei terzini più esplosivi della Serie A. La Juventus vuole ingaggiare il brasiliano perché Carlos Augusto è giovane e ha un grande potenziale, anche per una possibile rivendita in futuro. Ma, secondo le informazioni, il CEO del Monza, Adriano Galliani, vuole trarre il massimo profitto da Carlos Augusto. Adriano Galliani avrebbe già stabilito un prezzo di almeno 20 milioni di euro. Carlos Augusto sarebbe una buona acquisizione per la prossima stagione? Dimmi tu!